Meglio avvertire subito chi è a dieta, questo servizio potrebbe risultare molto pericoloso in quanto a tentazioni perché parliamo di dolci e di dolci fatti bene, premiati nello specifico con le tre torte dalla guida del Gambero Rosso giunta alla quarta edizione e dedicata alla valorizzazione del mestiere di pasticcere. Il massimo riconoscimento, le tre torte appunto, è stato assegnato a 13 insegni in tutta Italia e tra di esse una anche altoatesina, la Hackerer con i suoi due negozi dove fanno bella mostra dolci che sembrano gioielli va da sé che magari anche il prezzo non sia bassissimo ma qui stiamo parlando di gusto e a quanto pare il livello è elevato almeno così ritengono gli ispettori della guida Gambero Rosso a poco serve spiegarvi qual è il segreto di questo successo eccetera eccetera e allora non si perda tempo e andiamo con la presentazione di tre dolci tentazioni ecco qua abbiamo mousse al frutto della passione su un macaron e dentro c'è un inserto alla vaniglia con arborio al latte con poi un decorazione con un piccolo fiorellino e un paio di semi di frutto della passione abbiamo due strati di mousse al cioccolato una volta il mousse fondente e l'altro strato è mousse al cioccolato al latte e sotto c'è un strato di pan di spagna al cioccolato molto fine un impasto alle nocciole tostate con burro con cardamom con canella e in mezzo abbiamo un po' di confettura di ribes e sopra chiaramente abbiamo messo un po' di zucchero a velo e un paio di ribes io non ci entro mai che cioccolato dammi un cucchiaino fai assaggiare un pochettino ma che bontà ma che bontà ma che cos'è questa robina qua ma che bontà ma che bontà ma che bontà ma che bontà Grazie.